A dieci anni dalla strage di De Susino, costata la vita all'intera famiglia militano, padre, madre e il piccolo figlio, sarà il giudice di sorveglianza di Catania a pronunciarsi sulla posizione del killer. Il 49enne Giuseppe Centorbi venne dichiarato del tutto incapace di intendere di volere. Per lui in sede processuale arrivò l'assoluzione, come chiesto sulla scorta delle perizie dal difensore, l'avvocato Salvo Macri. Era il giugno del 2011 quando Centorbi fece irruzione nel podere dei Militano, sparò uccidendo Filippo Militano di 52 anni, la moglie Giuseppe Carlino di 45 e il loro figlio Salvatore di 13. Il giudice catanese adesso dovrà valutare se l'abbracciante sia ancora socialmente pericoloso. Nonostante l'assoluzione infatti venne disposto il ricovero in una struttura specializzata proprio in relazione alle turbe psichiche che lo portarono a quella strage. Gli investigatori la motivarono per dissapori personali che l'omicida pare nutrisse nei confronti dei Militano. L'azione fu cruente e non lasciò scampo neppure al figlio della coppia in questi dieci anni, anche secondo la valutazione del legale di difesa. Pare che l'abbracciante abbia preso consapevolezza di quanto fatto e sia profondamente pentito. Sarà il giudice etneo a valutare se Centorbi potrà eventualmente soffrire di una diversa condizione anche senza restrizioni personali.